Una prima presentazione questa mattina del Museo del Mare, un museo che sarà gestito dal Comune di Santo Stefano. Quanto è importante questa struttura per il vostro comune? Il nostro comune è una delle opportunità maggiori che si potessero presentare. Sono anni che si parlava di questo Museo del Mare, ma sempre in maniera come se fosse una chimera che un giorno o l'altro sarebbe arrivata. Oggi siamo qui e abbiamo visto quello che è la potenzialità di questo Museo del Mare. E' fatto completamente con un criterio innovativo, multimediale, che è unico in Italia e ritengo anche in Europa. E' chiaro che è necessario che si possa adesso fare l'ultimo step, lo sforzo per arrivare al completamento. E da lì allora l'inaugurazione è una gestione in sintonia con Area 24, Tetis, il Comune di Santo Stefano al Mare, per permettere a tutto il nostro territorio e a tutte le persone alle quali riusciremo ad aggiungere di poter godere di questa bellissima realizzazione.